Noi abbiamo una marcia in più e noi siciliani siamo abituati a soffrire veramente nel vero senso della parola cioè al nord si arrabbina se un treno passa tipo con un minuto di ritardo noi siamo abituati pure al fatto che non passa proprio un gecchio e ci siamo abituati a qualsiasi cosa il dover lasciare la propria terra che noi amiamo alla follia è una sofferenza non da poco perché mi manca, io più sto fuori e più mi manca la mia terra ci sto poco invece ci vorrei stare veramente molto di più quindi questo sacrificio lo posso ripagare semplicemente cercando di far bene di far uscire tutte le cose belle che abbiamo in Sicilia perché ne abbiamo non se ne parla spesso, si parla più delle cose negative la cosa mi fa molto arrabbiare e quindi insomma sono contento soprattutto di condividere con i siciliani in questo tour, questo libro che parla di loro parla di me, parla di loro, di tutto quello che ho vissuto c'è sì un'assonanza al titolo perché giustamente è un titolo che è molto forte mi divertiva giocare col fatto del girovita che mi contraddistingue insomma sono un artista di un certo peso, non vi dico quale ma nella bilancia ormai c'è scritto salire uno alla volta quindi evitevo proprio di racchianare quindi il girovita insomma sì ovviamente è anche la prima parte di quello che ho fatto spero che adesso qualcuno si accorga di questo giovane talento di 46 anni possa finire la gavetta e possono arrivare altre soddisfazioni comunque ci sono tante cose in cantiere al di là delle soddisfazioni che mi sto togliendo tutti i giorni la cosa che mi fa piacere è che io sono il raccomandato numero uno al mondo pur non avendo raccomandazioni perché sono raccomandato dal pubblico cioè io finché avrò voi che mi guardate e fate salire gli ascolti dovunque io sia e chi mi tocca a me? io sono veramente intoccabile quindi veramente più raccomandato di questo quindi continuate a seguirmi con grande effetto perché siete voi che mi portate avanti grazie adeno